Vola in cielo la Befana Babbo Natale è andato via Ma ritorna la Befana Con tanti regali, sì! Pioggia di talenti, concorso per bambini Via Monte del Gallo, 113 Roma, Auditorio Hotel, Casa Tra Noi Il 7 gennaio 2018 Discrizione è gratuita fino al 25 dicembre I premi Primo, 150 euro Secondo, 70 euro Terzo, regalo sorpresa Potranno partecipare tutti i bambini dagli 8 ai 15 anni in Canto, danza e musica Cosa devi fare? Devi prepararti con serietà e passione E per la gioia dei bambini ci sarà Il show di cucciaretta con la sonda e culette Ci sarà una rifa che servirà per garantire il successo dell'evento Come arrivare? Siamo nella zona Vaticano a 5 minuti della stazione San Pietro E capolinea autobus 64 Partendo da Termini per arrivare alla stazione San Pietro Che i grandi e i piccini Anno a peso ai camini Siamo nella zona Io ti miro e se me corta la respirazione Quando tu me miro se me sube il corazon E in un silenzio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, tu cuerpo y el mio Llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, ese fuego por dentro Que esta enloqueciendo me va saturando Con tu fisica y tu química tambien toda la temina Vi aspetiamo numerosi, non mancate